Arsita, Bisenti, Castiglione e Serraimondo e Montefino sono stati i centri di Arvalfino in provincia di Teramo visitati dal presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio in un giro istituzionale utile per toccare con mano i problemi e le potenzialità di un territorio molto esteso viabilità, trasporto scolastico, sanità territoriale, ricostruzione post-sisma 2009-2016 infrastruttura e sviluppo economico, i temi principali su cui Marsilio si è confrontato con i sindaci dei quattro comuni la legge regionale sullo spopolamento è stato un importante segnale di attenzione verso le aree interne ha detto Marsilio e sembra stia funzionando bene almeno a giudicare da quanto ci rappresentano le amministrazioni locali dal prossimo anno, ha aggiunto, non ci sarà più bisogno di presentare l'ISEE quindi ci sarà un ulteriore incentivo per i nuclei familiari a trasferirsi nei comuni montani e fare domanda per ricevere l'assegno di natalità ma ovviamente, ha concluso il Presidente, si tratta di una delle tante misure cui stiamo pensando per invertire il trend connesso al calo demografico dell'entroterra il rapporto con il territorio è fondamentale anche per evitare che il senso di marginalità possa prendere il sopravvento dal bando per il recupero delle aree dei generali